Esiste una via a Gioia Tauro, nella periferia est della città, alle porte del disagiato quartiere Ciambra, che viene considerata da molti come una discarica a cielo aperto, dove tutto si può lasciare per strada. In una città dove la raccolta differenziata è diventato ormai un sogno, dove non sempre la spazzatura viene recuperata quotidianamente, fa sì che molti cittadini, diciamo tra virgolette, molto tra virgolette, considerano via Fosso Mastro una sorta di isola ecologica dove tutto è possibile. Malgrado il tentativo di ripulirla, lo sconsiderato gesto di tanti si ripete e il risultato è questo. Spazzatura di ogni genere lungo la strada. Il prefetto che guida la triade commissariare del comune, Antonio Repucci, si è più volte lamentato e accusato che il 70% della popolazione gioiese non paga i tributi relative alla raccolta dei rifiuti perché forse il servizio in questi anni non è stato mai efficiente, ma ovviamente questo non dovrebbe legittimare quei pochi o quei tanti che considerano parte della città una sorta di mondezzaio a cielo aperto. La strada sarà ripulita, ma in mancanza di un complesso di videosorveglianza statene certi che il problema si ripeterà soprattutto in assenza di un'isola ecologica norma per il conferimento dei rifiuti sequestrata dalla magistratura da oltre due anni e tale realtà indubbiamente non aiuta a risolvere i problemi ma ad accumularli come questi sacchetti della spazzatura.